Siamo arrivati a dei premi particolari che adesso dobbiamo citare, il premio RaiSat ragazzi, quindi una giuria composta da ragazzi, ha votato il preferito della categoria giovani che è Simone Cristicchi, quindi Simone vince il premio dei giovani RaiSat. Poi per quanto riguarda il premio Sala Stampa Radio TV, preferito dai giornalisti, i Nomadi. E adesso arriviamo a un premio molto importante per questo palcoscenico, il premio alla critica, il premio Mia Martini, quindi preghiamo di far accompagnare da Paolo Zaccagnini la grande Loredana Bertè a consegnare questo premio. Prego, fate qui, qui qua. Loredana, e allora Lori, adesso sapremo a chi andrà a questo ambito premio, il premio della critica, il premio Mia Martini. Il premio Mia Martini di quest'anno viene assegnato e devo essere sincero sono felicissimo perché la canzone è straordinaria, quindi aspettiamo anche... Io sono più alto felice perché finalmente grazie a te è arrivato sul palco questo premio. Bene, e questo è importante, grazie. Zaccagnini, allora... È un amore. Allora, vogliamo consegnare questo premio, dicevo meritatamente perché la canzone è straordinaria, il musicista è straordinario e la voce poi è ancora di più. Noa, Carlo Fava e i soli String Quartet! Eccoli qua! Carlo Fava è scritto una canzone meravigliosa, tanto per fare un discorso in generale, hai detto delle parole d'amore straordinarie, ben accompagnato da questi solisti straordinari, che ora cosa fate, rimanete proprio solisti oppure accompagnerete? Finito, saremmo di diventare proprio solisti proprio? Meglio solis che male accompagnare. Beh, se andiamo avanti con queste battute, famo le quattro. E allora, Noa so che non ha la traduzione, quindi capisce poco l'italiano, risponderai tu naturalmente. Noi ti ringraziamo per aver scritto questa canzone che è bellissima e anche per averci portato questo pensiero gentile, questa voce meravigliosa. Sì, noi siamo tutti onoratissimi, volevamo fare dei ringraziamenti, condividere questo premio con Beppe Quirici, Adele Di Palma e Gianluca Martinelli e io in particolare volevo insomma ringraziare questi straordinari musicisti e esprimere tutta la mia gioia e la mia felicità per essere stato illuminato dalla presenza di questo angelo della musica. che è Noa. Tutti noi. E allora, Loredana Bertè premia con il premio Mia Martini. E' un onore. Noa, Carlo Fava e solo in street quote perché mi lo vede lì poi che vuol dire perché... E' un onore. 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 Foto di rito per i fotografi. Eccolo qua, Lori, se vuoi venire anche tu accanto. Ecco, mi sembra giusto. Quindi un applauso a questi straordinari artisti che hanno meritato il premio della critica. Grazie. Grazie tante. E io volevo ringraziare anche Marvi De Angelis che ha coordinato queste ragazze splendide. Vero Roberta?